Visaggi per la nebbia intendo? Ah, in teoria no, non ci hanno ancora detto niente, infatti. A si ora dovreste partire? A l'1.40. Da quanto tempo sto aspettando di partire? Ho l'aereo, dovrei partire alle 13, però non hanno spostato alle 15, quindi vediamo quando effettivamente parte, non sappiamo ancora. Dove deve andare? A Cluj, Romania. Da tanto che stai aspettando? Da più di un'ora, da Londra, è sceso a Trieste e sto aspettando che arrivi qui con l'autobus. Probabile che si andrà a Venezia, si atterrano a Venezia e si può ripartire. Causa nebbia da questa mattina ha Treviso fortissimi disagi perché aveva previsto di prendere un aereo. La maggior parte dei voli in partenza e in arrivo dal Canova sono stati dirottati verso lo scalo veneziano Marco Polo di Tessera e diversi altri, ma solo in arrivo, verso l'onche dei legionari a Trieste. Disagi inspiegabili per i passeggeri all'oscuro fino all'imbarco che non sarebbero partiti da Treviso. Cosa vi hanno detto dall'aeroporto per via della nebbia? Sarà ritardo di quasi due ore e mezzo. Quindi si parte da qua o è previsto anche che si possa partire da Venezia? Si parte da qua, le hanno detto. A Canova bloccati causa nebbia anche i Los Locos. Ancora non sappiamo niente, la nebbia c'è ma speriamo che si possa partire altrimenti è un guaio. Il problema per Treviso è sempre lo stesso, il ritardo con cui ENAC ed ENAV concedono a piloti ed aeromobili di poter decollare e atterrare con forte nebbia. Chissà che la licenza quarantennale concessa di recente a fine ottobre scorso a Canova dal Ministero dei Trasporti aiuta a sbloccare questa situazione, è il caso di dire, di stallo. Grazie a tutti.